un po e poi vuotavano vuotavano acqua pollente sopra sta cenere che passava sotto e c'era il buco del mastello sul forno e quell'operazione le durava due ore o tre poi andavano a fare il risciacquo giù al fuscello alla stazione e la ricavano sul caldo e un chilometro di qua e adesso c'è ancora il rosero per la scoperta di rosta giù in basso e andavano la reggaetto o qualcuno l'ha chiamato allora questo telefono è mio la salone finché era il coso 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 è veramente elegante e amragia la salone finché non metto la musica la salone finché non è un po' 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 che caldo vorrei avere io caldo Ragazzi, se qualcuno deve scendere aspetto qua. Sì. Ok. Che le fammio le devi mangiare in un botto solo? Noi abbiamo trovato delle bellissime castagne la settimana scorsa a Cumiana. Io poi non le raccolgo perché non mi piace. Sì. Ok. Sì La doppiamo qui di fronte Ma sì, tanto per quittà non poteva niente Torno anche scendendo da un pozzo Poi come poi sulla schiena Senti che c'è atomica Gio mi incomincio a tagliare delle cose Passo il mio discensore Non scattare Dai punta, punta, punta Eh sì, io porto due accendine C'ho due razzi No, però c'è due Ah bello, se non muori Sì Ok Ok Fai un piano uscita Che tiri tutto Ottimo Questa 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 Allora Cioè, non trafenderci Ci affendo delle cose, posso? Questa 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.